Macè nasce a Sant'Agostino, non lontano da Bologna, come azienda italiana dedicata completamente alla produzione di frutta di quarta gamma. Fondata nel 2000, si è subito distinta come industria innovativa e all'avanguardia sia in Italia che nel resto d'Europa. In principio lavoravamo in uno stabilimento più piccolo, poi con il trasferimento nella nuova sede che conta più di 11.000 metri quadrati di superficie abbiamo deciso di ampliare le linee di prodotto e con un occhio attento all'innovazione abbiamo portato in Italia la tecnologia dell'HPP. Oggi, a distanza di diversi anni, gli estratti di frutta fresca sono il core business di Macè e sono distribuiti nelle principali catene della grande distribuzione sia italiana che estera. Negli ultimi due anni abbiamo sviluppato e lanciato una nuova linea di peste e salse fresche che stanno avendo un ottimo successo sul mercato. Abbiamo produttato diversi prodotti 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 e vegetali. Il problema è che abbiamo avuto 7 giorni di servizio, non più. Quindi tutto ha fatto con la produzione e servizio molto veloce. La possibilità di produrre nuovi prodotti è molto molto legato alla possibilità di usare l'HPP. L'HPP tecnologia è una tecnica di pasteurizzazione. Questa tecnologia ci permette di usare migliorare i microrganismi per stabilizzare le alimenti senza applicare un'acqua. Con l'HPP tecnologia, abbiamo potuto rinforzare la stessa qualità di prodotti prodotti totalmente freschi, con un shelf life che può essere portato a più di 3 mesi. Quindi significa che la nostra produzione ha cambiato totalmente. Abbiamo deciso di fare Hyperbaric perché quando abbiamo iniziato, quasi 13 anni fa, avevamo bisogno di avere un partner per capire cosa fare con la tecnologia totalmente nuova che è stata molto difficile da faceare. Quando hai bisogno di sviluppare un HPP prodotti, hai bisogno di un servizio di ingegneria, che ti ha dato tutti i dettagli per creare un prodotto reale. L'altra cosa ha fatto con l'after-sale mantenimento, che è più veloce e rilevata. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto l'HPP Hyperbaric. Il futuro con Maceae ha dovuto fare con nuovi frutti e vegetali che sono introdurati nella linea. In Maceae, stiamo cercando di dare tutti i biocompondi disponibili in grado, in loro materiale, direttamente al Consul. Questo è il motivo per cui stiamo continuando a sviluppare legumi e vegetali, e anche per creare un hybrid tra frutti e altre proteine. Questa è la nostra missione. Ho finito! Tagli locunda! Allora ho finito! Grazie a tutti